Siamo, Pier Mario c'è qualcosa? Sì, Gene, sai che in settimana c'è stato un piccolo diverbio fra Ronaldo e la sua disposeria? Sì, è vero, Ronaldo... Perché pare che Ronaldo se la sia presa con i tifosi del Corinthians perché pare che abbiano detto che lui stia riprendendo peso. Sì, l'ho visto un filino appesantito io, Ronaldo, sinceramente. Ecco, Ronaldo fa sapere che non è assolutamente colpa sua e infatti per smentire la notizia ha invitato a casa sua un nostro inviato Sky brasiliano appunto per smentire la notizia. Abbiamo anche il video. Abbiamo le immagini? Allora vediamo questo smentito di Ronaldo. Ciao, Ronaldo, ha sentito che i tifosi sostengono che lei sia ingrassato? Sì. Cosa risponde? Grazie, Ronaldo, a voi studio. In effetti quando giocava, quando giocava era più magra. Allora andiamo subito nel...